Doveva toccare a me. Sarei morto per qualcosa in cui credevo. Ti manca la consapevolezza di te stesso per sapere in cosa credi. Cosa? Io? La tua mente è un vortice di sensi di colpa, sia tua che di qualcun altro. Ti abbiamo dato un'arma e detto chi volevamo che fossi. E ora, lotti per conciliare un'intera vita di esperienze di Ultrensov con i pochi anni della tua. Tutti troviamo la morte definitiva, prima o poi. La tua non doveva essere oggi. Mi sbagliavo su di te, Saladin. Mi dispiace tanto. Non rispetto la coerenza con le tue convinzioni, ma che questa sia l'ennesima lezione. Fare ciò che credi sia giusto, come hai fatto tu e come ho fatto io, non ti assolve dalle conseguenze di tali azioni. Qualcuno dovrà sempre pagarne il prezzo.